Un nuovo appuntamento con Mondo Azzurro con Emanuele Tramacere, oggi vi parliamo di Fabio Chiarodia, difensore centrale classe 2005 del Werder Brema, nato in Germania, origine italiana, la sua famiglia originaria di Venezia si è trasferito in Germania per lavoro. Lo zio gli ha trasmesso la passione per il Werder, è tifosissimo, e quando è entrato nel settore giovanile lui di fatto è arrivato a dichiarare di essersi emozionato appunto da piangere. Omerto Pra che è stato il suo mentore all'interno della squadra, è un difensore centrale bravo coi piedi, abile anche di testa, a noi ricorda Mancino di piede, un giovanissimo Alessandro Bastoni potrebbe fare, vedremo lo stesso percorso. Ha già due record all'attivo, è stato il più giovane esordiente con la maglia del Werder a 16 anni e 188 giorni ed è anche il più giovane da essere partito titolare con la maglia del Werder in Mudesliga lo scorso 17 marzo. Ha una clausa di recessione a 2 milioni di euro, il Milan ci aveva pensato, la Juventus è il club italiano che è più attivo su di lui in questo momento. L'Italia nel 19 punta su di lui per l'europeo e è già stato convocato anche per il stage da Roberto Mancini.